Buongiorno, in questo video vogliamo parlare del nostro modulo per angolo per camera da letto, il nostro modulo extra space, il nostro modulo in assoluto più venduto. Vogliamo solo parlare delle caratteristiche pratico-funzionali che sono il suo Vero Plus. La prima cosa che salta all'occhio è che io quando apro le ante ho una visione completa, perché? Perché le ante si aprono a 180 gradi e non ingombrano in mezzo al locale, quindi se io le dimentico aperte perché mi sto vestendo non ho il problema di avere le antine che mi danno un piccio. Come viene attrezzato internamente, che è il suo vero valore? Abbiamo studiato questa soluzione dove abbiamo un'appenderia curvata sia sopra che sotto che va a seguire il normale andamento della curvatura dell'armadio. Diciamo che sviluppa 1,60 m di appenderia sopra e 1,60 m di appenderia sotto. Stiamo parlando dell'equivalenza di oltre i 70 barricetti di un intero armadio da 3 metri lineare. Gli abiti si dispongono in modo naturale a semicerchio, mi permettono di avere una visione completa, quindi abbiamo risolto ottimamente il problema degli angoli retti, dove c'è sempre un angolo morto. L'altro grande vantaggio è che gli abiti giustamente non arrivano in fondo, di conseguenza ci possiamo permettere l'uso di attrezzare la parte posteriore con dei comodi ripiani dove potrò mettere scatole per il cambio stagione, borsette, maglie. Poi per carità, insomma, accettiamo anche la critica che raggiungere quel ripiano è un po' più fastidioso, ma diversamente era spazio che non andava sfruttato. Questa è la configurazione solita che troviamo nelle camere da letto, nelle camere per ragazzi. In realtà questo modulo, che sviluppa 1,30 m per 1,30 m al muro, di conseguenza sostanzialmente ci sta quasi sempre. Molto spesso lo andiamo a inserire anche nei locali giorni della casa, quindi uno studio, piuttosto che la terza camera, e viene attrezzato in modo differente. Sostanzialmente questo ripiano, che è un ripiano strutturale, viene installato un po' più in alto, qui sotto avremo sostanzialmente un vero e proprio ripostiglio. Oggi è una cosa molto interessante perché nelle case piccole, di piccole dimensioni, dei giorni di oggi, difficilmente si ha questa fortuna. Un altro vantaggio molto importante è che questa forma arrotondata morbida in realtà rende un po' indefinito l'angolo e il vantaggio, diciamo, conseguente è che il locale camera sembrerà paradossalmente più grande. Diciamo che il modulo è predisposto per continuare in entrambi i lati. In questa configurazione si interrompe perché poi c'è il gruppo del letto. In realtà abbiamo diverse soluzioni con variature completamente angolari sul nostro sito, sul nostro showroom, ci sono tre modelli di camera dove è presente. Sono il modello di camera Marco, il modello di camera Perla e il modello di camera Compatta. Nei prossimi video spiegheremo un po' più nel dettaglio come è possibile distribuire gli arredi all'interno di un locale per poter inserire il nostro modulo. Venite a vedere nel nostro showroom perché vi renderete veramente conto che ha una grandissima, grandissima funzione. È molto, molto, molto utile. Grazie. Grazie a tutti.